mettiamo i puntini sugli io devo parlare io ce l'ho chiesto la panchina lunga a lei si ricorda lei mi ha detto si si avrai tutto quello che vuoi mi ha dato 4 riserve 4 giocatori che c'hanno la media di 34 35 anni e sono tutti in attesa di prima occupazione svingolatica ma anche la serie ci li vuole e due c'hanno pure le vere varicose aristotele scadesce alla saudace per la dente del brasile speroni che io la volevo vendere no signore quella è la nostra bandiera speroni c'entra avanti sfondamento sfondamento sempre tutto il giorno capisce